Ciao a tutti, tutto ciò che è accaduto una volta si può ripetere per questo motivo che non bisogna dimenticare. Oggi appunto, domenica 27 gennaio, il 27 gennaio è il giorno della memoria, per ricordare l'olocausto che è stato perpetrato nei campi di concentramento dai nazisti di Hitler ai danni della comunità ebraica. In totale circa 6 milioni di morti. Questa data, perché è stato scelto il 27 gennaio? È stato scelto il 27 gennaio perché è il giorno in cui l'Armata Rossa liberò il campo di Auschwitz. E liberando il campo di Auschwitz viderò quello che era capitato. Ad Auschwitz, circa dieci giorni prima, diciamo che i nazisti si erano ritirati, portando con loro in una marcia di morte tutti i prigionieri sani, diciamo, molti dei quali morirono durante la marcia. E però questo, quando il 27 gennaio del 1945, le truppe sovietiche della sessantesima armata del maresciallo Ivan Konev arrivarono in Polonia, Auschwitz si trova in Polonia, il nome polacco di Auschwitz è Ossienzim. Io andai a visitarlo, diciamo, diversi anni fa, credo intorno al 95-98 ed è veramente agghiacciante comunque vedere, anche se sono passati tanti anni queste baracche, queste cose, comunque l'apertura dei cancelli il 27 gennaio del 1945 mostrò, diciamo, al mondo intero la testimonianza di questa tragedia, di questo holocausto, ma non soltanto dei morti ma anche delle torture. Infatti vennero ritrovati anche gli strumenti di tortura e comunque ci furono le testimonianze dei pochi superstiti. Per cui si è scelto, diciamo, come data simbolica questa data del 27 gennaio, come giornata della memoria. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!